ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video sono stato un pochino assente su youtube ma c'è stata la pausa invernale dove ho potuto pianificare i miei mille impegni di questa stagione da pilota farò il mondiale endurance con kawasaki e il national mille con aprilia un pochino come diciamo abbiamo fatto l'anno scorso in più farò l'istruttore con tutti i pazzi per la pista e farò il team coordinator nel mondiale 300 per il team gp project quindi sarò veramente super impegnato pochissimi giorni liberi ma oggi non sono qui per questo siamo a castelletto e ho una grandissima novità ho comprato la mia prima moto da pista una briglia rs 660 trofeo l'ho presa in una versione un po particolare perché erano starter kit in cui mancavano diversi componenti ma i miei sponsor mi hanno prontamente aiutato a finirla light tech mi ha dato una mano per quanto riguarda tutta la componentistica come piastre di sterzo tappo osservatoio protezione copri carter pedane che utilizzo anche nella sv4 del national sc project mi ha mandato lo scarico subito prima addirittura che mi arrivasse la moto cartuccia misano per la forcella e mono all ins con precarico esterno e ovviamente tutta la grafica cura di cp design a me fa impazzire fatemi sapere nei commenti se vi piace pure no sono venuto qui per fare un pochino di rodaggio per vedere se abbiamo assemblato tutto bene vi aggiorno con le prime impressioni prime impressioni molto molto buone nonostante il rodaggio però la moto mi sembra molto molto agile non vedo l'ora di utilizzarla per i miei allenamenti e spingerci davvero forte come vedete rewin mi ha fatto pure una tuta che matcha con la leveria della moto e tra pochi giorni partiremo per le man che sarà la prima 24 ore quindi sono stracarico sapete se avete visto i video scorsi come sono andate le ultime quindi c'è sempre voglia di riscatto se vi è piaciuto il video e siete curiosi di seguire la mia stagione iscrivetevi al canale mettete like al video e alla prossima grazie a tutti